Donazioni di sangue, ci sono dei parametri che detta la legge per esempio quante donazioni si possono fare durante l'anno e sono quattro, ma c'è qualcuno che ritiene che questo numero sia eccessivo e che possa portare a dei problemi di salute, così come la fascia giovane che va dai 18 ai 25 anni potrebbe essere sottoposta appunto a questi problemi. Sono credenze popolari o c'è qualche cosa di vero? Lo chiediamo al dottore Carmine Barile. Allora, sono credenze popolari. Se la legge pone dei limiti e dà delle direttive sono ampiamente studiate, sono ampiamente valutate e quindi vengono dati questi tipi di indicazione. Poi logicamente la fantasia popolare dà di tutto di più così come io sempre consiglio alle donne che possono donare due volte in un anno di non donare dopo tre mesi, ma in genere donare dopo cinque, sei mesi, in modo che la donna che è mestruata, quindi che ciclicamente ogni 28 giorni ha il suo ciclo già ha una perdita fisiologica di sangue. È vero che può donarlo in due anni quattro volte, ma certamente non lo va a donare ad agosto, a dicembre, a febbraio e a luglio, non so se rendo l'idea. Quindi avere un minimo e poi sarà sempre il medico che fa la visita pre donazione che consiglierà. Indubbiamente non vi è nessuna controindicazione a donare a 18-19 anni. Io sono una prova vivente, ancora qui vivo, ho cominciato a 18 anni e un giorno a donare. Sono il diciannovesimo di Ischia, il nono per donazione di Ischia, dell'associazione che è nata 40 anni fa e non mi è successo niente, voglio dire, dono periodicamente, quindi è una grande bufala quella che l'organismo è in crescita, per cui l'organismo è sempre in crescita. Per cui voglio dire, la donazione, anzi in quel periodo, il midollo è molto più reattivo e poi Gagliardo e con l'assorbimento dei microelementi al massimo, al top, perché io non capisco come una persona di 50 anni che ha un assorbimento, uno stomaco e un assorbimento ridotto possa donare quattro volte un ragazzo di 25 anni o 18 anni che è nel pieno delle sue capacità anche fisiche e quindi di donazione non possa donarlo tranquillamente quattro volte all'anno, quindi è una grande bufala.